ciao a tutti bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo episodio di The Sims 4 cresciamo insieme allora è notte sta piovendo anzi notte sono le 6 del mattino sta piovendo e stanno ancora tutti dormendo miracolosamente dormono ancora tutti c'era Lilibet che si era un attimo svegliata però poi ho fatto di nuovo prova ad andare a nanna e si è riaddormentata quindi mentre loro ancora dormono mi prendo un attimino per farvi vedere le ultime novità in casa e iniziamo dalla casa sull'albero che come potete vedere è terminata l'abbiamo finalmente completata abbiamo aggiunto lo scivolo nell'ultimo episodio in cui MJ è stato anche colpito da un pulmine ma vabbè dettagli poi abbiamo aggiunto la campana qui dietro abbiamo messo anche il palo da discesa e abbiamo messo le luci e poi qui Liam ha messo le decorazioni da spiaggia da naufrago sulla spiaggia quindi la nostra casa sull'albero è terminata è bellissima mi piace da impazzire peccato che sta piovendo però questo tempo a Sanseguoia devo dire che è proprio strano perché l'altro giorno era rovente e adesso piove è strano il meteo di Sanseguoia le bimbe invece ecco che si è svegliata Lea inizia a fare un po di capricci guardatela che è sul pancino che si rigira perché con loro abbiamo raggiunto delle nuove pietre miliari e prima che inizia a disperarsi ve le faccio vedere allora qui abbiamo per Lea rotolamento sulla schiena una mossa cattiva per una tartaruga ma buona per una lattante Lea si è rotolata sulla schiena poi rotolamento sul pancino Lea si è impadronita della capacità di rotolarsi dalla schiena al pancino e viceversa è un passaggio cruciale per aiutarla a orientarsi nel suo mondo e poi ha imparato a mettersi seduta avendo imparato a reggersi mettendosi su a sedere manca davvero pochissimo prima che Lea riesca a mettere le proprie manine sporche sugli oggetti vicini quindi lei che ha imparato a stare seduta possiamo provare a metterla nel seggiolone e possiamo provare a darle la pappa e adesso che è affamata io direi che possiamo iniziare subito poi abbiamo anche dormito tutta la notte è un miracolo io ancora non ci credo ah il dolce suono del silenzio coloro che vivono con Lea non dimenticheranno mai la prima volta che ha dormito di filato senza interruzioni questo è stato veramente un miracolo e ce l'abbiamo fatta siamo riusciti finalmente a farla dormire una notte intera mentre Lilibet sta procedendo un po' più lentamente però anche lei ha le sue nuove pietre miliari quindi sollevato la testolina Lilibet ha sviluppato la capacità di sollevare la testa per conto proprio c'è un mondo intero tutto da ammirare e rotolamento sulla schiena una mossa cattiva per una tartaruga ma buona per una lattante quindi anche lei piano piano sta riuscendo a muoversi per conto suo come potete vedere abbiamo aggiunto sui sui box gli uccellini lei ha molta fame ok allora chi facciamo svegliare loro dovrebbero star bene tutti e due in realtà perché mi sembra che i bisogni stanno benissimo sì ok allora facciamo svegliare la cara Sara ci prendiamo in braccio Lea e la portiamo giù vediamo se riusciamo a provare una pappa quindi aiuta Lea a provare la prima pappa che bello allora aiuta Lea a scoprire il cibo che cosa le diamo porridge di riso delicato acquoso e insipido per i neonati gelato una delizia fredda cremosa e zuccherosa no per colazione non mi sembra il caso purè di limone uh che aspro passato di zucca cremoso consistente con un fresco aroma di zucca hummus fatto in casa cremoso consistente con un ricco aroma di aglio forse l'aglio non è proprio l'ideale per iniziare purè di patate dolci cremoso burroso e con un aroma dolce ma terroso cereali d'avena delicati grumosi e dolci con un leggero retrogusto di frutta secca purè di mango succoso cremoso e con un aroma floreale dei tropici vabbè queste sono proprio cose particolari poi salsa di mele eh sì dai ma si inizia con la salsa di mele una poltiglia morbida e acquosa dal sapore dolce amaro yogurt delicato cremoso e con un sapore lievemente agrodolce carote tritate soffici e dalla dolcezza terrosa purè di piselli consistente stracotto e con un dolce gusto saporito pasta di papaya cremosa dalla consistenza burrosa e con un aroma lievemente dolce e pure di avocado delicato burroso e con un aroma terroso io direi di iniziare con la salsa di mele perché con questo che iniziano i bambini no iniziano con con gli omogenizzati che di solito sono o di frutta oppure di pollo insomma queste cose qua quindi vediamo se ma no dai doveva fare colazione la dovevamo mettere nel nel seggiore ma lei è affamatissima e quindi sta facendo la pre colazione poi dopo sarà la seconda colazione sul seggiolone e vediamo se ci riusciamo mj ma tu che stai bene perché non vieni a preparare la colazione anche per noi grandi mentre lilibet sta ancora dormendo quindi ci godiamo questo momento perché poi si sveglierà anche lei e avrà sicuramente fame anche lei quindi che cosa ci prepariamo altre scelte servi la colazione che cosa facciamo le uova si facciamo le uova dai così le può mangiare anche liam che è intollerante al lattosio e anche lui si è svegliato può fare una bella colazione no e papà adesso ti viene a preparare la colazione intanto puoi farti una doccia vieni qui nel bagno questo con la doccia fai la doccia oh no devi andare a scuola scusa e ti sei svegliato troppo tardi scusami beh dai quando torni appena torni trovi tutto pronto puoi mangiare eccoci eccoci siamo sul seggiolone vediamo come va con questa prima pappa a vediamo un po non mi sembra molto felice lei però vediamo a l'aeroplanino com'è dimmi che ti piace ti prego oh sì le piano sì o no non è chiaro ti piace è buono ti piace questo omogenizzato ecco che arriva anche il papà guardatelo com'è felice sì abbiamo mangiato la pappetta abbiamo mangiato la salsa di mele Sara si è buggata Sara si è un attimo si è presa un momento di pausa ok MJ la colazione a che punto siamo riprendi grazie hai visto oh vai di nuovo l'aeroplanino com'è non mi sembra molto convinta siamo sul seggiolone a questa faccia un po si è messo il ditino iniziamo a fare capricci dai abbiamo mangiato la prima pappa ti è piaciuta qui che cosa abbiamo leo non è rimasta convinta da salsa di mele è un cibo a cui forse sarà meglio dare una seconda possibilità ok pietra miliare prima pappa sbloccata lei ha provato la pappa per la prima volta ora che ha assaggiato qualcosa di nuovo usa il seggiolone per vedere quali cibi esaltano le sue papille gustative e sarà complicato lì libet ha molta fame stiamo arrivando sta arrivando la mamma guardate eccola qua che sta andando eccoci qua povera questa liribet l'abbiamo lasciata da sola e adesso facciamo cura dei lattanti super efficiente ecco la sta lattando bene lea che hai che non va allora adesso viene papà e ti dà il giochino aiuta lea a scoprire il cibo le facciamo mangiare qualcos'altro prova anche il papà che cosa le diamo non lo so per colazione proviamo anche uno yogurt vediamo se le piace lo yogurt vediamo un po' nel laboratorio l'esperimento scientifico di liam ha causato un'esplosione provocando un enorme pasticcio oltre a spaventare un altro studente riteniamo che lui l'abbia fatto di proposito ma non ci credo proprio però vabbè dai un provvedimento disciplinare che c'è non ti piace dai lo yogurt com'è oddio guardatela che faccetta che stai combinando no dai vi prego lea che cosa ci stai combinando sta spargendo lo yogurt dovunque tutto quello che ha mangiato praticamente no ma guardatela dai lea un disastro lo yogurt è stato eh sì capisco benissimo capisco perfettamente lo yogurt è stato un disastro e allora facciamo uscire lea fai una pernacchia sulla pelle fatemi vedere questa cosa che non sono mai riuscita a farla intanto qui come va come va quassù che facciamo perché al contrario ecco qua torniamo sul pancino un po con lei ah ma ha sbloccato un'altra pietra miliare rotolati sul pancino sbloccata lili betta ha acquisito la capacità di rotolarsi sul pancino ora potrai iniziare a mettersi sul pancino per conto proprio in modo da raggiungere ulteriori pietre miliare della motricità basilare io sto scattando una quantità esagerata di foto e allora possiamo provare invece a metterci sedute giusto vediamo un po' culla Sara non te ne andare torna qui amichevole attività e non c'è non esce è arrivato il papà ci vuoi provare tu ah ok ho capito si era buggata ecco perché era girata al contrario che succede metti giù ok allora proviamo a metterci sedute visto che siamo qua esercitati a sederti vediamo un po guardate come è serena e se ne va d'alea a fare una pernacchia sulla pelle ok Sara torna qui altre scelte amichevole esercitati a sederti mentre Liam mentre MJ se ne sta andando d'alea che ha il pannolino sporco ed è disperata e si vuole andare a dormire però prima forse è il caso di cambiarle il pannolino quindi facciamo dov'è cura dei neonati cambia il pannolino e poi dopo la mettiamo a letto loro qui fanno progressi vediamo un po sta andando Sara tesoro ti hanno lasciato qui da sola poverina ecco che arriva papà con Lea e la mette giù senza andarle a cambiare il pannolino ovviamente MJ che cosa stai facendo ti avevo chiesto di cambiare il pannolino a Lea mentre Sara aiuta Lilibet a stare seduta esercitati a sederti ok sì che hai messo Lilibet giù l'abbiamo notato lei è giocosa guardate che carina raffica di risatine la felicità irradiata da un simb a lei vicino accresce la giocosità che anima Lilibet essere straordinario Lilibet se l'ha spazzata un mondo in compagnia di un simb incredibile wow gioca a bubusette te no non piangere sta arrivando mamma così ti diverti un altro po' qui abbiamo cambiato il pannolino che mi ha lasciato a terra ovviamente e non avevamo dubbi e che altro ha che non va vuole dormire ok ha bisogno di divertimento un po' di divertimento MJ facciamola giocare un po' questa bambina altre scelte amichevole dà il giocattolo dalle il suonaglino così gioca un po' qua invece abbiamo fatto bubusette te metti i piedini in bocca le sta raccontando una storia che brava ecco qua abbiamo dato il suonaglino e la mettiamo a dormire ok e non giocherà questa bambina ma ce l'ha in mano è rimasta con il suonaglino in mano ecco sta giocando ok quindi MJ niente vai a farti una doccia vai in bagno perché tanto qui per il momento è tutto sotto controllo c'è Sara che sta pensando a Lilibet e nel frattempo controlla anche Lea che sta giocando con il suonaglino e che adesso si è stufata perché ha sonno mettiamola a dormire dai ciao Oliver altre scelte e no la volevo mettere nel box metti nel box così se ne va a dormire la cara Lilibet invece come sta avrebbe un po' sonno anche lei sta facendo un po' di capricci vediamo se riusciamo a stare sedute dopo oppure no no secondo me si sta mettendo esatto si è messa a dormire che bello che si rotola si rotola nella colletta MJ che cosa stai facendo con Lea doveva andare a letto ma ce la stava mettendo Sara quando sei salito scusami ho perso un pezzo ho perso il pezzo in cui MJ viene a prendere Lea nella sua stanza guardatela che tenerina dai anche Lea si mette a dormire adesso ecco prova ad andare a nanna adesso ecco grazie grazie per averci allietato la giornata con questa puzzetta anche lei l'ha fatta grossa nel pannolino raggiunto il livello 3 di videogioco bene Sara se ne è proprio lavata le mani sta giocando ok Sara sai che cosa volevo farti fare a si vai a mangiare un po perché ne hai bisogno MJ invece è andato in bagno ok anche lui dovrà mangiare qualcosina poi volevo farti curare un po il giardino a parte che qua con le lavatrici come siamo messi asciuga il bucato ancora oh mamma mia lava il bucato ancora c'è un po di disordine in casa dobbiamo un po ripristinare l'ordine appunto quindi adesso stai mangiando le bimbe stanno facendo il riposino speriamo che duri il più a lungo possibile e dopo che hai mangiato allora vieni qua e facciamo intanto possiamo mettere l'altro fai il bucato aggiungi la lavatrice ok perché evidentemente non è ancora piena e così poi direi che facciamo anche una lavatrice ci laviamo un po di vestiti liam deve invitare a casa propria la compagna di classe saori sì dai andate a giocare un po sulla sulla casa sull'albero così gliela fai vedere però eh sì hai bisogno di una doccia effettivamente vai vai veloce a fare la doccia così poi puoi andare a giocare grazie Sara che ci stai andando a mettere a lavare tutto grazie mille perfetto ok abbiamo già fatto lava il bucato ok e asciuga il bucato e poi vieni qui volevo farti prendere cura un po del giardino fai evolvere vendiamo tutto perché tanto abbiamo la dispensa praticamente piena quindi vendi tutto ok qua che è successo dobbiamo mettere il fertilizzante spruzzare insetticida sì ecco qua guardate come sono cresciute bene tutte le mie piantine che bello anche qua un po di insetticida ecco qua ok bene dedicati al giardinaggio liam va meglio abbiamo fatto questa doccia ok è in doccia poi puoi venire a mangiare mangia le uova che stamattina purtroppo non hai fatto in tempo e poi vieni qua a giocare con che cosa giochiamo al naufragio sull'isola con la tua amica saori che hai invitato a casa che dov'è adesso non lo so ma eccola ma ci sta facendo le pulizie questa poverina guardate quanti soldini per aver venduto tutte quelle cose brava Sara bravissima beh sì noi abbiamo l'inventario pieno perché ogni tanto le faccio anche raccogliere per per cucinare per preparare le cose però sì effettivamente sono molte molte cose ogni volta eccolo l'inventario stavo guardando tutta altra parte sono tante cose non ne abbiamo bisogno proprio di tutte 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 quindi va bene così qualcosina possiamo anche venderlo questo non riesco a buttarlo trova dei componenti che sono sempre utili eccolo liam che va a giocare sulla casa sull'albero con la sua amichetta non hai mangiato però e hai fame lo so o vediamo cosa fanno come giocano che bello che carini stanno giocando e sta ricominciando a piovere io avevo detto che il tempo a sanseguoia è terribile è veramente terribile Sara che scappa con l'ombrello è venuta Nalani a trovarci che facciamo le apriamo c'è MJ dentro in realtà quindi potresti aprire tu invita ad entrare ok qui abbiamo recuperato gli aggiornamenti buttiamo e salutiamo la cara Nalani che è venuta a trovarci questo liam non l'ha mangiato lo mangerà dopo mettiamo anche il cibo a oliver riempi e chiama e ok quindi adesso passeranno la serata così in compagnia dei loro amici Nalani che è venuta a trovare Sara e invece l'amichetta di liam che si chiama già non ricordo più il nome saori mi sembra si saori quindi loro stanno giocando la giornata devo dire che è andata piuttosto bene e sono molto felice che finalmente con le bimbe abbiamo sbloccato un livello in più e adesso riescono anche a mangiare praticamente lei ha praticamente sì ormai mangia da sola sul teggiolone li libetto piano piano riuscirà ad arrivare anche lei a questo a questo livello adesso si sta alzando si sta muovendo un po' di più vediamo se poi inizierà a gattonare gattona no non me lo ricordo sapete ho visto lea che praticamente camminava sulle ginocchia che non stava gattonando ma camminava sulle ginocchia da seduta non ho fatto caso se gattoneranno oppure no questo lo scopriremo insieme prossimamente benissimo quindi con questa bellissima scena di loro due che dormono e di libet che emana puzza io vi ringrazio per la visione lasciatemi tanti commenti tanti mi piace iscrivetevi al canale per non perdere tutti gli aggiornamenti e vi do appuntamento al prossimo episodio di the sims 4 cresciamo insieme ciao 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 imo